Nuova serata di festa per la Siligas Avellino, che ha celebrato il diciassettesimo compleanno degli Original Fans, lo storico gruppo organizzato dai supporter Bianco Verdi. Una nuova occasione d'incontro, di calore manifestata dai tifosi ai ragazzi di coach Stefano Sacripanti, al lavoro per il prossimo impegno casalingo, in programma sabato sera alle 20.30 contro la Ope Job Metis Varese. L'ambiente irpino è carico per il nuovo match interno, con una prevenita per assistere al match del Del Mauro, partita ieri e che prosegue a gonfie vele. La città ha ormai ritrovato pienamente l'entusiasmo per la palla a canestro, ma è caos per la richiesta della società lombarda di posticipare il match. I biancorossi infatti sono protagonisti nella FIBA Europe Cup e nei quarti affronteranno gli Amterf Giants. Il match di andata contro la squadra belga è stato rinviato domani sera per l'allerta massima dopo gli attentati terroristici che hanno colpito Bruxelles. Varese ha inviato richiesta ufficiale di un posticipo anche del match di campionato contro Avellino. Un rinvio addirittura al 13 aprile che non soddisfa la Siligas. Un eventuale posticipo negherebbe alla Scandone un notevole afflusso al palazzetto, legato anche al rientro in città di Tantirpini per le festività pasquali. Una risposta da parte della Lega Basket arriverà nelle prossime ore, con il pubblico bianco-verde in attesa.